Venga Fagni Ma l'avanti Naturalmente le presentazioni sono inutili Prego, si sieda Non vorrà mica morire in piedi Eh, purtroppo sì Vede, ci sono due Annie Robson E come lei certamente avrà capito, una è di troppo Da qui la dolorosa necessità di eliminare la Annie Robson numero uno E lei, che è l'unico al mondo a sapere che ci sono due Annie Robson La signorina dimostra molta più dignità di lei Il cui cadavere in tutti i casi non sarà trovato prima di due mesi Cioè alla scadenza del contratto d'affitto di questo sperduto casolare E noi fra un'ora saremo già in volo per il Sud America Anzi... No, no, aspetta Anche se ci fosse già comunicato la notizia della sua morte Non ha capito? Lei per il nostro capo è già defunto Ed ora... Coraggio, ora lascia di con Su Adesso, adesso la libera da tutte queste, queste cose Faccio presto Sì, sì Ho paura Faccio presto Faccio presto Faccio presto Faccio presto